Marco Brando, qui a Bicelli, per parlare dell'eredità di Federico II. Ma qual è questa eredità? Non dovete preoccuparvi perché non riceverete nessuna eredità. Il mio libro si riferisce a una circostanza curiosa. Federico II di Svevia, un personaggio molto amato in Puglia, che ha vissuto otto secoli fa, è ancora considerato in questa regione una specie di Re Buono delle favole. Gli si attribuiscono tutte le qualità positive che si possono attribuire proprio a un Re Buono delle favole, a un Sean Connery, come dire, dei film di quelli dell'ultimo Cavaliere, Lancillotto e compagni. E questo fa parte del mito perché Federico II di Svevia è stato un grande sovrano, un grande imperatore, mezzo tedesco, mezzo normanno, che ha vissuto molto nel sud, nel territorio che oggi viene chiamato Puglia, però è stato buono o cattivo a seconda necessità, come tutti i potenti. Ecco, il mio libro indaga sul modo in cui il mito di questo imperatore, Normanno Svevoli, questo personaggio medievale, resiste ancora otto secoli dopo, in maniera positivissima. Al sud, vecchie amicizie, ma molto più labili, nel resto in Puglia, intendevo dire, c'è un solido legame di forti amicizie, nel resto del sud un po' meno, nel nord, soprattutto sull'onda del leghismo, nei giorni nostri è considerato ancora il prototipo dell'amico storico da battere, in Germania quasi non se lo ricorda più nessuno. E quindi il mio libro racconta il modo in cui un mito medievale continua ad essere usato al giorno d'oggi, sia nel mondo politico e intellettuale, ma anche tra la gente comune. Ecco, è un libro sull'oggi, sfruttando il ricordo di un personaggio storico del passato. Si potrebbe diventare oggi un Federico II? Chi ricorderemo del Novecento, che è appena finito, o del Duemila, come Federico II, se ne ha le possibilità, ovviamente? Le condizioni storiche, culturali, sociali sono talmente diverse che un personaggio, un sovrano medievale, al giorno d'oggi, probabilmente finirebbe sotto una macchina dopo mezz'ora, e quindi si risolverebbe, proviamo la radice, così come un personaggio politico dei giorni nostri finirebbe probabilmente su qualche patibolo nel giro di altrettanto tempo. Diciamo che era un uomo, un sovrano per la sua epoca, molto interessato alla cultura, cosa non normale neanche ai giorni nostri, interessato alle culture di tutto il mondo conosciuto di allora, che aveva la capacità anche di non fare guerre, ma di trovare accordi diplomatici. Ecco, è un esempio che ancora oggi molti politici del XX e XXI secolo stentano a recepire, insomma, basta vedere cosa sta succedendo in Italia, ma anche in Estremo Oriente, dove si è cimentato anche lui otto secoli fa. Cosa penserebbe oggi Federico venendo in questa città o magari in queste terre? Beh, dipende, Federico II in realtà è un po' un mito che abbia amato appassionatamente queste terre, a parte che lui non... la Puglia dei suoi giorni non era la Puglia del giorno d'oggi, che ha dei confini geografichi e delle caratteristiche completamente diverse. Una volta nel Medioevo ai suoi tempi per la Puglia si intendeva tutto il Sud Italia, escluso la Sicilia praticamente. Lui in certi momenti è anche usato in maniera forte in Puglia, quando Foggia e Sansevero tradirono la sua causa passando con le truppe pontificie e lui tornando dalla crociata rase a suolo due volte. Insomma, Foggia e una volta Sansevero, per fare un esempio, oggi probabilmente rimarebbe deluso perché, insomma, nella sua visione, se avesse avuto successo, c'era il fulcro geopolitico dell'Europa, sarebbe stato più il Sud dell'Europa che non il centro. La sua sconfitta... è difficile dire cosa sarebbe successo se avesse vinto. Sicuramente la sua sconfitta allora ha spostato il baricentro della politica europea nel centro Europa, verso la Germania e i paesi anglosassoni ed è ancora, come dire, ancora oggi è così. Ecco, probabilmente penserebbe, se avessi vinto oggi il Sud Italia, avrebbe probabilmente avuto un peso maggiore nella cultura e nel potere occidentale. Grazie a tutti!